A tutti voi, carissimo, grazie a tutti i giorni, a tutti i giorni, a tutti i giorni, a tutti i giorni, a tutti i giorni. Certe volte c'è nessuna possibilità, non ho visto una possibilità, non ho visto una possibilità, non ho visto un atto di grande possibilità. Allora, in questo momento, la presentazione dell'Oposto, alla Santa Chiesa del Dio, che è l'opera di un anno, a luglio, che da questo particolarissimo giorno, e capire, con il suo prestiero, che inizia la storia, con lì, che cresca, la sua bella distrazione, la presenza di Dio, nelle case di popolo. E adesso, di voi, carissimi fedeli, di corretto, ce ne sono tanti oggi, a quelli più chiesti, e a quelli a costanza cresciuti, che vorranno un grande, davvero una buona, santa e buona Pasqua, a tutti i giorni, a tutti i giorni, e a tutti i giorni. Buona Pasqua!